Lo stile della musica originale per banda, cioè musica scritta appositamente per questo tipo di organico musicale, quindi per un'orchestra di fatti, un'orchestra di fiati. Il secondo brano è una triple suite, è un classico trovare di brani scritti con tre situazioni musicali diverse, ad esempio c'è un primo brano più allegro, vivaceo, c'è un secondo più riflessivo e lento, e come tradizione poi il compositore finiva con un brano leggermente più allegro. Il colloquio della scritta è uno dei più grandi compositori di musica originale per banda, si chiama André van Jeyn, è di origine belga, tutta l'area del Belgio e dell'Olanda ha avuto una grandissima relazione negli anni 50 e poi per questo genere di musica. E' stata scritta e lo svintuisce dal fraseggio musicale delle melodie che ascolteremo, quando questo mestre si trova a fare uno stage per bande musicali nella provincia di Gomo. Non a caso il primo movimento è molto ispirato, si può dire un po' che sia una musica descrittiva, ispirato appunto al paesaggio del lago del Gomo, il secondo movimento, quello più adagio, ricorda l'andamento delle barche sull'acqua stessa del lago, e finisce con il dinamismo tipico dei paesi italiani riveraschi sul lago stesso. Di André van Jeyn, che ne segue la banda città di Spoleto, a Triquel Suite. Bene. Applausi Grazie. Applausi Grazie. Applausi Grazie. 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 Grazie.